ciao a tutti e bentrovati su live of barbecue sono federico e quest'oggi vi presentiamo l'ultima novità nell'ambito dell'affilatura dei nostri coltelli gli affilatori orl la gamma di affilatori orl è molto ampia partendo dal top di gamma ovvero dall'orl pro scendiamo di un gradino per arrivare all'orl 2 disponibile in due colori colore scuro e colore chiaro per arrivare al modello base che è l'orl cruise il concetto dietro all'affilatore orl è in realtà abbastanza semplice e punta alla risoluzione di un problema fino a ieri quando facevamo questo movimento per affilare i nostri coltelli avevamo un grande problema mantenere la giusta angolazione dell'acciaino rispetto alla lama questo rischiava di rovinare definitivamente l'affilatura dei nostri coltelli anziché migliorarla per ovviare a questo sistema orl ha inventato la sua base che è disposta con due angoli 15 gradi per i coltelli di tipo giapponese 20 gradi per la gran parte dei coltelli in commercio grazie a due potentissime calamite non faccio altro che appiccicare la lama del mio coltello alla sua base ottenendo così l'angolazione perfetta ecco il momento di utilizzare il nostro affilatore che grazie a un meccanismo basato su cuscinetti ha un rotolamento molto semplice e molto leggero sul nostro piano di lavoro e grazie all'inclinazione predefinita dalla base ci consente un'affilatura perfetta senza mai sbagliare angolo vediamo ora un processo di affilatura con il nostro orl partendo dalla base andiamo a segnare con un pennarello il filo del nostro coltello da affilare fissiamo il coltello sulla nostra base e iniziamo la vera e propria affilatura con il nostro orl utilizzando la parte abrasiva a differenza della parte di ceramica che verrà utilizzata in un secondo momento per la lucidatura del filo a questo punto non facciamo altro che far scorrere senza premere troppo il nostro orl lungo la lama del nostro coltello fin quando non avremo eliminato totalmente il segno nero che abbiamo fatto in precedenza una volta terminato il processo di affilatura su una parte della lama non facciamo altro che staccare il coltello e riattaccarlo al contrario per procedere alla stessa maniera sull'altro lato del filo una volta che abbiamo eliminato totalmente il segno nero che abbiamo fatto in precedenza non facciamo altro che dalla parte della ceramica andare a rifare lo stesso movimento con il nostro orl per andare a lucidare il filo del nostro coltello ovviamente andremo a farlo prima da un lato e poi dall'altro l'affilatore orl è adatto a tutti i tipi di coltelli anche quelli con le forme più disparate o con altezze diverse in questo caso possiamo vedere che con un'affilatura di tipo normale non riusciremmo ad affilare la punta del nostro coltello perché il rullo è più basso in questo caso servendoci di un semplicissimo tagliere non facciamo altro che posizionare il nostro coltello e usare il tagliere come base per il nostro affilatore in questo modo riusciremo ad affilare le parti più alte grazie all'utilizzo del tagliere e le parti più basse in maniera normale un pezzettino alla volta otterremo un'ottima affilatura su tutti i nostri coltelli veniamo ora alla gamma orl che prevede tre modelli il più semplice e il cruise poi abbiamo l'orl 2 che è quello che abbiamo appena utilizzato per affilare il nostro coltello ed infine abbiamo l'orl pro partiamo dall'orl cruise che è il più semplice la sua base ha solamente l'inclinazione a 20 gradi quindi non è adatta per coltelli di tipo giapponese e anche la sua costruzione è più semplice partendo dal materiale per arrivare anche alla rotazione dotata di cuscinetti meno raffinati orl 2 il modello intermedio ha già caratteristiche molto avanzate a partendo dalle pietre intercambiabili per poter avere grani diverse a seconda del tipo di affilatura che vogliamo andare a realizzare oltre ad esser ad avere il corpo realizzato in legno orl pro è il top di gamma e ha caratteristiche esclusive a partire dal corpo interamente realizzato in alluminio oltre ad avere al suo interno ingranaggi derivati dall'orologeria che permettono un rotolamento molto molto più veloce rispetto ai suoi fratelli minori e ha sempre le testine intercambiabili per poter variare la grana delle nostre affilature vediamo nel concreto la differenza tra i due facciamo un segno semplicissimo sui nostri due orl e vedremo che il rotolamento dell'orl pro a parità di velocità è il doppio rispetto a quello dell'orl 2 orl ha pensato anche a una vasta gamma di accessori per i nostri affilatori a partire dal semplice espositore per rendere il nostro affilatore una parte un soprammobile una parte abbellente della nostra cucina per aggiungere poi al kit premium dove abbiamo due grane diverse per affilature più precise e una fascia di pelle per la lucidatura del filo dei nostri coltelli sempre nella gamma dei nostri accessori per orl abbiamo anche un grazioso espositore dove possiamo riporre tutte le nostre pietre per affilare come sempre grazie per aver visionato il nostro video e arrivederci alla prossima recensione